Ciao belli! Come va? Benvenuti! Oggi facciamo un esercizio speciale. Possiamo scrivere certi verbi e dopo possiamo congiugarli. Va bene? Siete pronti? Cominciamo! Numero uno. Mangiare. Mangiare. Vediamo la congiugazione. Mangiare. Io mangio. Tu mangi. Tu mangi. Lei mangia. Mangia. Lui mangia. Lei mangia. Noi. Noi mangiamo. Noi mangiamo. Voi mangiate. Loro mangiano. Loro mangiano. Loro mangiano. 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 Perfetto. Bene. Ben fatto. Tu mangi. Tu mangi. Mangi? Bene. Ben fatto. Perfetto. Io. 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 Io mangio. Io. Io mangio. Io mangio. Noi. 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 Noi mangiamo. Mangiamo. Noi mangiamo. Noi mangiamo. Ben fatto. Perfetto. Grazie. Numero due. Numero due. Numero due. Lavorare. 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 La congiugazione. Io. Io. Io lavoro. Io lavoro. Tu. 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 Lavori. Tu lavori. Io. Lei. 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 Lavora. Lei. Lavora. Lui. Lavora. Lui. Lavora. Lei. Lavora. Lei. Lavora. Lei. Lavora. noi lavoriamo voi 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 lavorate voi lavorate voi lavorate loro loro lavorano 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 va bene? vediamo io 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 lavoro lavoro ben fatto grazie lavoro lei 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 lavora lei lavora molto bene grazie lui 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 lavora lavora lui lavora voi 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 lavorate voi lavorate ben fatto grazie numero tre scrivere 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 io scrivo tu scrivi lui lui scrive lui scrive lei scrive voi scrivete oh scusate noi scriviamo noi scriviamo voi scrivete loro 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 scrivono loro scrivono io scrivo tu scrivi lui lei scrive noi scriviamo voi scrivete loro scrivono io 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 scrivo molto bene molto bene scrivo tu 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 scrivi tu scrivi molto bene ben fatto lui 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 scrive e lei 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 scrive voi 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 scrivete voi scrivete loro loro scrivono numero quattro numero quattro il verbo è volere 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 io io voglio voglio tu vuoi 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 lei vuole noi vogliamo noi vogliamo voi voi volete voi volete loro vogliono loro vogliono adesso tu 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 vuoi tu vuoi lei 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 vuole lei vuole molto bene grazie lei vuole io 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 voglio io voglio ben fatto grazie e finalmente voi 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 volete volete molto bene grazie ciao ciao ci vediamo dopo ciao ciao